Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Piave. Luigi Guglielmi oggi al microfono. È giovedì 3 gennaio 2019. Dobbiamo ancora abituarci a chiamarlo col suo nome questo nuovo anno. 2019. Allora, copertine dei giornali nazionali per passare poi alla lettura delle principali notizie locali. Corriere della Sera, il titolo principale è Sfida tra sindaci e Salvini, un tema che torna anche in taglio medio del gazzettino. In parte nazionale, vedete, sindaci, ribelli, scontro con Salvini, migranti, no al decreto sicurezza, il no di Orlando, ma Conte efficace, Giordani, sbagliato, ma va applicato. Vi leggo solo questo lancio per capire di cosa si tratta. La disobbedienza show parte dal sud con Leo Luca Orlando, l'oggetto è il decreto Salvini sulla sicurezza, virgolette, disumano, virgolette, anticostituzionale. Insomma, da non applicare secondo i rivoltosi guidati dal sindaco di Palermo, ma la manovra sudista di cui il sindaco napoletano De Magistris è magna pars, è tutta politica creare un fronte antilega che dal mezzogiorno parta alla riscossa dando protagonismo a Masanielli in cerca di ribalte. Critiche però vengono dai sindaci del nord-est come Conte Treviso, che dice il decreto è efficace, o Giordani, sindaco di Padova. È sbagliato, ma dobbiamo applicarlo. In prima sul gazzettino nazionale c'è anche una foto di Venezia di notte strapiena di turisti e l'argomento, avete già capito qual è, zaia, ok all'obolo a Venezia, purché sia minimo si parla della famosa tassa di sbarco di cui si discute in questi giorni, che è stata di fatto autorizzata dal governo e adesso bisogna vedere un po' come applicarla. Era uno dei punti fermi del sindaco di Venezia, Brugnaro. Sembra che si vada in questa direzione, in Consiglio regionale. Ieri è stato chiesto, non ricordo della verità, se è in sede del Consiglio regionale. Comunque dalla regione sono venute voci che chiedono, anche di maggioranza, che chiedono garanzie sul fatto che per i veneti o per i residenti a Venezia, ma comunque anche per tutti i cittadini veneti, questa tassa non venga applicata perché Venezia è il nostro mondo. Noi non possiamo pensare di muoverci nella città capitale, capoluogo della nostra regione pensando di dover pagare per entrare a Venezia, visto che è la nostra residenza. Andiamo a vedere i giornali locali. Mi soffermerò per primo sul Corriere del Veneto, che ieri ho trascurato, voglio in qualche modo riparare. Allora, Corriere del Veneto, edizione di Treviso e Belluno, immigrati, scontro, lega, 5 stelle, abbiamo già letto di che cosa si tratta, quindi saltiamo all'interno, saltiamo alla pagina che viene dedicata a Belluno, che oggi è in 12, se non sbaglio, no, aspettate, no, è in 10 oggi. E la pagina 10 dà conto della visita del vicepremier Di Maio in provincia di Belluno sui luoghi del disastro causato dall'uragano, chiamiamolo così, del 12 ottobre. Il titolone Di Maio bis sui luoghi della tempesta, però vedete c'è un bel virgolettato, finora soltanto promesse mancate. Oggi e domani in Agordino il vicepremier del Movimento 5 Stelle, e le imprenditori delusi attesi forfè. E qui dobbiamo leggere qualcosa di questo articolo che ci presenta anche così la parte negativa, insomma, di questa azione di governo, che pure trova tantissimi consensi a livello nazionale, di cui però alla fine bisognerà soppesare l'efficacia. E l'efficacia, se noi dovessimo misurarla, sul fronte della reazione al maltempo, finora non è che si sia vista molto, perché gli interventi sono stati eseguiti soprattutto dalla Regione, con le sue risorse. La Regione, che peraltro non ha messo in campo risorse particolari per il futuro, contando sul fatto che i soldi arrivino dallo Stato e dall'Europa, mentre non si è affatto certi che da queste due fonti possano arrivare finanziamenti per rimetterci in piedi, per tirar via quel disastro di alberi che abbiamo in tutta, no, in tutta la parte alta della provincia, ma insomma, un po' dappertutto, però soprattutto in Alto Cordevole e in Val Vizdenne, ma poi gli alberi abbattuti sono davvero un po' dappertutto. È atteso per oggi e domani nel Bellunese, in particolare in Agordino, il vice premier, nonché ministro del lavoro e dello sviluppo economico, Luigi Di Maio, il leader del Movimento 5 Stelle, finora in vacanza a Moena, in Trentino, farà base all'hotel Alla Posta Caprile di Alleghe, gestito dalla famiglia Pra da sette generazioni, visiterà luoghi devastati dall'alluvione, tempesta di fine ottobre scorso, come Roccapietro e Sottoguda, dove si era già recato all'epoca dei fatti. Di Maio incontrerà in albergo alle 16 sindaci del territorio, imprenditori, impiantisti delle piste da sci, operatori turistici ed esponenti delle categorie economiche, tutti soggetti che però ne sanno poco o niente e che comunque non si aspettano un granché. E qui leggiamo qualche virgolettato, cerchiamo di capire meglio. L'ho saputo dai giornali che arrivava, racconta il direttore dell'Associazione Provinciale Piccola Industria e Artigianato, Lappia, Giuseppe Darold. Forse la nostra rappresentanza non è gradita, chi lo sa non mancherò di ricordargli che qui c'è bisogno di soldi, dice Lappia. I danni sul territorio sono stati ingenti e se si vuole sviluppare la naturale vocazione turistica dei luoghi, occorre investire sul ripristino del loro Stato. A parte il maltempo, dice Marco De Francesco, qui nell'articolo che sto leggendo da pagina 10 del Corriere del Veneto, inserto del Corriere della Sera, c'è sul piatto la questione dell'autonomia del bellunese, virgolette ancora, già fare quella veneta, continua Darold, non sarebbe male, quanto a quella bellunese la vedo difficile, la provincia è stata così depotenziata che invertire la rotta pare un lavoro duro. E poi il governatore Luca Zaia lo ha detto chiaro, sostiene ancora Darold, capo dell'Appia, Zaia lo ha detto chiaro, prima si ragiona per il Veneto, poi eventualmente per il bellunese. C'è questo problema che ritorna dei soggetti non invitati all'incontro con Di Maio, sarà una svista, sarà una leggerezza, sarà quello che si vuole, oppure sarà una scelta, però sono cose che quando si opera a livello istituzionale bisogna stare molto attenti perché non si rappresenta un partito, si rappresenta l'Italia e l'Italia deve comportarsi da istituzione, il governo italiano deve comportarsi da istituzione, in riferimento senza commettere errori formali. Tra i non invitati, continuo a leggere, il presidente della Federalberghi Locale, Walter De Cassan, non ne so niente, dice, ci andrà lo stesso? Vedremo, l'aconico, non è molto ottimista, circa la possibilità per il bellunese di ricevere soldi per la ricostruzione, virgolette, forse un'alluvione non basta, continua ironico De Cassan, serve un terremoto, per Catania si parla di contributi, di sospensione di mutui, mentre gli albergatori bellunesi, e non tutti hanno ricevuto solo una deroga semestrale relativa all'adeguamento alle norme antincendio, per ora lo Stato non ha fatto niente per noi, è triste, ma è la verità, e queste sono le parole del presidente degli albergatori bellunesi, non un qualunque, voglio dire, quanto all'autonomia, ormai non si capisce più niente, chi vivrà vedrà, conclude De Cassan. Insomma, un certo pessimismo, delusione che serpeggia, salto un po' più in giù, Paolo Doglioni, presidente Confcommercio Provinciale, non ci vado, non credo che Di Maio possa darci delle risposte, che sarebbero importanti invece, soprattutto in vista della chiusura di tante attività commerciali qui nel bellunese, più ottimista Sergio Pra, che darà alloggio al vice premier, vero che per ora non abbiamo visto niente, come albergatori, spiega, io personalmente ho avuto danni per 180 mila euro, un altro albergo di mia proprietà è stato travolto dalle acque, ma se Di Maio viene ad incontrarci, avrà studiato un piano di aiuti, noi paghiamo tutto quello che c'è da pagare ogni anno, una volta che abbiamo bisogno, sarebbe opportuno che la macchina dello Stato si mettesse in moto, e insomma, adesso bisogna capire se tutta questa delusione sfocerà anche nell'incontro con Di Maio, con richieste concrete, con proteste concrete, certo il clima non sembra così sereno, insomma, d'altra parte, ripeto, bisogna che il governo faccia fatti, perché se fa solo parole e proclami e slogan, alla fine quando ci sono i veri problemi, e in provincia abbiamo veri problemi, si misura la validità di un esecutivo. Titolo di centro, vento a 100 km all'ora, piste da sci chiuse, alberi giù, molte linee telefoniche ed elettriche, K.O. sulle Dolomite, parliamo del vento di ieri, sapete che le previsioni non sono molto favorevoli per quello che riguarda i prossimi giorni, ci sarà una pausa nel weekend, ma insomma è previsto ancora vento oggi e domani. Truffe a Cortina, prenotano online, ma l'alloggio non esiste, di questo avete letto, anche ieri sul sito nostro dell'Amico del Popolo, www.amicodelpopolo.it e sui canali vari, su Facebook, su Twitter, visto che abbiamo dato la notizia non appena ce n'è arrivata l'avviso da parte dei carabinieri. Vi leggo il taglio basso, poi passiamo agli altri giornali, Coppa del Mondo, biglietti già in vendita, gli eventi, campionesse di sci come la VON a Cortina, e questo si parla appunto del circo che frequenta ogni anno la mitica pista Olimpia della Tofana per la discesa libera, il Super G, le gare saranno sabato 19 e domenica 20 gennaio, se si vuole una visaglia, una preparazione, anche se ormai le si fa ogni anno, voglio dire, ma comunque un test per l'evento che poi è importantissimo, che saranno i mondiali del 2021. Lasciamo stare il Corriere del Veneto, l'inserto del Corriere della Sera, passiamo nei pochi minuti che ho a farvi vedere i titoli principali di Gazzettino e Corriere delle Alpi, Gazzettino di Belluno, ma il tempo, anche qui vedete che il tono è sempre, insomma emerge un po' dopo la luna di miele, emerge un po' di dubbi, emergono un po' di dubbi, di perplessità sull'azione del governo, verrebbe anche da dire che arriva il leader dei Cinque Stelle, non è il leader della Lega, mi viene da pensare, visto il consenso che qui da noi la Lega ha, mi viene da pensare che se a fare questa visita fosse Salvini, probabilmente l'atteggiamento sarebbe anche un po' diverso. Con Di Maio probabilmente i vari soggetti coinvolti si sentono anche più liberi di esprimere le perplessità, ma le perplessità sono forti, guardate il titolone di chi ci segue su Facebook, per gli altri lo leggo, il titolone di apertura, tutta giustezza, tutta pagina del Gazzettino, ma il tempo, ora vogliamo risposte. All'incontro oggi in Agordino con il vice premier Di Maio i sindaci chiederanno di passare dalle promesse ai fatti. Gli amministratori e i cittadini aspettano che lo Stato eroghi i contributi, macchina burocratica da semplificare. Vi leggo il lancio firmato Gabrielli, poi l'articolo a pagina 3. Ora basta, dice il Gazzettino. I sindaci del Bellunese vogliono risposte certe una volta per tutte. Basta, promesse, ora per ripartire e cercare passo dopo passo di rialzare la testa dopo la batosta del 29 ottobre servono i soldi. È molto concreto, molto terra terra il ragionamento. Le banconote, quelle vere, non solo i denari promessi. E così compatti gli amministratori dei comuni più colpiti dal tornado, oggi a nuovo incontro con il vice premier Luigi Di Maio, perché era già stato qui, chiederanno a gran voce di poter guardare al futuro con maggior serenità. Il ministro, come promesso, oggi ritornerà in Agordino per un sopralluogo. E qui sappiamo il Corriere delle Alpi, e chiudo con questo. Apre invece sulle prospettive delle Olimpiadi 2026, si prepara il dossier, lo sci diviso tra Cortina e Bormio. Quindi Cortina perderebbe un pezzo a favore della Lombardia, ma il sindaco ieri sdrammatizzava. Precipita con l'auto dal San Boldo, grave un anziano, e a questo si riferisce la foto di prima pagina. Mi devo fermare qui, vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, auguro a tutti una buona giornata, anche seguendo i nostri programmi e i nostri siti www.amicodelpopolo.it e i canali Facebook, Twitter e YouTube. Ciao a tutti. Ciao a tutti.